MIA CARA EMILY MIA CARA EMILY MIA CARA EMILY E li distruggerò. Quando Ladybaga e Chat Noir hanno chiamato nuovi eroi, mi hanno aiutato a capire che esiste una Miracle Box con altri Miraculous. Quando usano nuovi poteri, so che hanno decifrato il Grimorio. Il mio Grimorio. Devono averne una copia. Ciascuna delle loro mosse finora ha confermato che sono stati scelti da un guardiano. Una teiera! Mi ricorda qualcosa. Ma certo! Conosco qualcuno che può aiutarci. Devo andare! Devo trovare questo guardiano e costringerlo a rivelarmi i segreti del Grimorio. Poi anch'io avrò nuovi poteri. Diventerò più forte. E finalmente mi prenderò ciò che è il mio. Fino ad allora farò del mio meglio per proteggere il nostro figlio ogni giorno. Ma credo che, proprio come me, senta terribilmente la tua mancanza. Nathalie è di grande aiuto. Fa molto per noi, tu lo sai. Emily, non avremmo mai dovuto usare il Miraculous del Pavone. Non saresti dove sei adesso. È colpa mia. Ti prego, perdonami. Ma ce la farò. E presto tornerai con noi, lo prometto. Ti amo, Emily. Ti amo, Emily.